Sono state presentate questa mattina all'emiciclo le giornate di primavera del FAI, Fondo Ambiente Italiano, per la provincia dell'Aquila. All'incontro, promosso dal capodelegazione FAI, l'Aquila, Enza Turco, hanno preso parte il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e il vicepresidente della Giunta regionale Emanuele Imprudente. Il Consiglio regionale è particolarmente grato al FAI per le iniziative di valorizzazione e promozione culturale che propone ogni anno, ha detto Sospiri. Siamo felici inoltre che quest'anno nel programma sia stata inserita anche la visita di Palazzo dell'emiciclo e intendiamo proseguire questa collaborazione nei prossimi anni, mettendo a disposizione del FAI tutta la collaborazione istituzionale necessaria.